Hai paura del futuro? Assolutamente no. Neanche ora? Soprattutto ora. E come fai? Perché faccio ciò che amo. Seguo il mio talento. E vedo i risultati. E dove? Fossombroni, Istituto Economico, AFM, SIA, Relazioni Internazionali, Turismo. Fossombroni Scientifico Quadriennale. Fossombroni Indirizzo Sportivo. Fossombroni Liceo Scientifico, Bilingue e STEM. E adesso? E adesso ci impegniamo ancora di più. Istituto Fossombroni. Con ragazzi così, il futuro è una sfida già vinta. Frenosa il tuo Open Day.